Per circa cinque giorni la zona Angeli con il cimitero e il quartiere arabo si trasforma in un set cinematografico grazie al regista nisseno Tony Gangitano che ha acceso nuovamente i riflettori sulla sua città per realizzare un nuovo film che racconta la tradizione e la storia dei figli amari. È una storia meravigliosa, è la storia dei figli amari che ritrovano il Cristo Nero, il signore della città cosiddetto e abbiamo individuato questo posto perché proprio alle spalle abbiamo il castello, il castello di Pietrarossa o Rocca delle Donne e abbiamo individuato queste grotte che sono simili a quelle che praticamente i figli amari, uno dei figli amari ritrovò questo crocifisso con Gesù proprio su questo crocifisso, creazione bizantina quindi tutto nero. Il lavoro è stato finanziato dalla Federazione Federico II di Palermo, è un lavoro abbastanza genuino ma abbiamo anche coinvolto oltre che gli attori, le maestranze, abbiamo coinvolto il quartiere che secondo me è il quartiere da cui parte la vera città, la vera Caltanissetta, il quartiere Angeli a salire. È una zona meravigliosa, quartiere arabo, insomma delle cose strepitose, delle location che andrebbero curate ancora di più perché sono molto ma molto belle. Detto questo la cosa importante ho anche vagliato una situazione molto bella e ho incaricato alcune persone, compreso Giovanni Taibbi che fanno parte delle congregazioni della Settimana Santa insieme a tanti altri, a Lillo di Forti, a Nicola Spena che è un veterano delle varie cedere e quant'altro. Li voglio inserire a mo' di attorato, quindi di attori, all'interno di questo lavoro come se fossero in realtà in quel giorno, ma non nel 1618, ma nel 2022, nell'ultima Pasqua di Caltanissetta. Quindi sarà un lavoro molto articolato, un montaggio genuino che auguro poi di vedere a tutti. Il prodotto è molto forte perché parla di cose molto ma molto vere che negli anni sono accadute. Il titolo di questo lavoro e di questo film è U Cristo trovato, proprio in maniera proprio dialettale, siciliana e in questo film chiaramente poi ci saranno anche altre cose che piano piano sveleremo. Dieci gli attori principali, circa venti le comparse e coinvolti anche tanti bambini. Tre protagonisti, Gaetana Ronica, Jacopo Cavallaro, Salvatore Pavone, Laria Testa Quattra, Giovanna Di Maura e Pierluigi Gangitano. Qualcosa emozionante, meraviglioso comunque, ricalcare quello che è la nostra storia, ci fa pensare tantissimo. Quello che non avevano, come vivevano, quindi la natura ed è appunto un'emozione incredibile, sì. Grazie. Grazie.